Salve a tutti, come state? Sono Kiki ed oggi sono qui per fare un video di motivazione taglierò tutti i pensieri negativi che è qualcosa che mi piace moltissimo e non faccio da tempo e poi cancellerò ogni pensiero limitante e ti dirò tante cose per farti sentire meglio inizio con l'accendere il palo santo per pulire tutto l'ambiente circostante il palo santo aiuta molto, è come un incenso ci vuole un pochino per accenderlo, ma ha un odore davvero davvero buono ecco accendiamolo qui di lato e intanto ti chiedo di respirare lentamente e profondamente lascia che il respiro ti pulisca da ogni preoccupazione questo è il tuo momento ci siamo tu ed io lascia andare ogni pensiero che ti ha preoccupato durante la giornata durante la giornata ogni convinzione limitante per esempio non sono capace di fare questo o non ho fatto abbastanza abbandona tutto lascia che prenda lascia che prenda quel pensiero e lo porti via lontano da te ed un altro ed un altro lascia andare ogni preoccupazione lascia andare vediamo vediamo eccola qui lascia che la prenda e la lasci andare respira respira così e un'altra e un'altra e un'altra e un'altra e se ne vanno via sei sicuro in pace adesso taglierò via ogni preoccupazione superflua so che sembra un gioco ma funziona e se ne va e questa preoccupazione se ne va e questa mamma mia quante preoccupazioni che hai e se ne va e se ne va ricorda che sei protetto e amato in ogni istante della tua vita sei sicuro sei incredibile meriti tutto il bene di questo mondo tutte le cose meravigliose sono per te sei capace sei capace di fare qualunque cosa qualunque cosa non ci sono limiti a ciò che puoi realizzare io credo in te credo tantissimo in te farei farei delle cose meravigliose sei pieno di talenti di hobby di gentilezza per il prossimo apprezzo la tua esistenza qui come l'apprezza tutto l'universo andrà tutto benissimo andrà tutto incredibilmente bene non ti preoccupare l'ansia non può farti niente né il panico né lo stress ci sei tu in questo momento e andrà tutto benissimo perché vedi il tuo futuro e non hai idea delle sorprese meravigliose che ti sta riservando credimi proverai una gioia infinita e troverai una serie di angeli sul tuo cammino l'unica cosa che ti resta da fare è vederlo vedere tutta la felicità che ti circonda sei capace di fare qualunque cosa e voglio che tu lo sappia un abbraccio invisibile ti circonda allora lascia che sia io ad abbracciarti attraverso lo schermo e un'altra volta e che ogni abbraccio ti dia tanta tanta positività ed energia grazie e un altro e un altro e un altro abbraccio andrà tutto meravigliosamente bene non dubitare non dubitare hai ancora qualche dubbio e allora sai che cosa facciamo? lo tagliamo? dammi tutti quei pensieri del tipo non ce la posso fare o pensano tutti che io sia strano o o non posso fare amicizia tutti questi pensieri tagli a me e io li taglierò via e non esistono più perchè non hanno ragione di esistere respira e sentiti bene in pace liberato l'ansia ti ha solo comunicato che quei pensieri non dovevano essere in te senti cosa sta dicendo il tuo essere tu sei capace di grandi cose non ne dubitare mai meriti la felicità meriti di avere una vita piena di cose meravigliose una vita che ti soddisfi una vita che ti riempia di felicità e adesso lascia che ti trasmetta dell'energia positiva attraverso le vibrazioni del diabase così questo pulisce l'aura ed ha energia positiva così semplicemente rilassati riposati grazie grazie di essere così speciale grazie di essere così speciale grazie 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 grazie